Grazie, sì, 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 va bene, certo, d'accordo, d'accordo, ci sentiamo dopo. Jay voleva sapere se andiamo alla sua mostra. Sì. Che ne dici? Fai tu. Non mangi niente? Ho fatto di nuovo quel sogno. Quello col cervo? Sì. Secondo me gli dai troppo peso. Che continui a farlo non significa niente, è un sogno. Ma non mi è mai capitato di continuare a sognare lo stesso sogno. Ed è così irreale. Adesso è colpa di quel sogno se non hai fame. Però è la verità che non ho fame. È semplicemente nausea matutina. Il dottor Bill ha detto. È normale, sforzati di mangiare. Ma che vuol dire quel cacciatore che scompare nell'oscurità? Lo puoi sapere? E penso che più tardi, noi tre, andiamo al negozio di materassi. A noi serve un materasso nuovo. Il nostro puzza. E oltre a puzzare terribilmente, è anche piccolo. Sì, sì, lo so, lo so. Diamo. Diamo anche io. Ciao a tutti. Oggi ho per voi una curiosità che riguarda Silvester Gardenzio Stallone. Dovete sapere che Stallone è membro del Mensa, associazione internazionale senza scopro di lucro, di cui possono far parte solo le persone che hanno raggiunto o superato il 98esimo percentile di quozienti di intelligenza. Insomma, avete capito. Il nostro amato Sly, pensate che ha ottenuto un punteggio di 160. Praticamente un genio. L'avreste detto voi. Al prossimo video. Ciao a tutti.